Ragazzi sto registrando questo video dopo che Gaia vi ha lasciato, ora siamo la mattina seguente Perché per chi si fosse perso l'ultimo video praticamente è successa una cosa abbastanza strana, possiamo dire così Io volevo fare un normalissimo scherzo lei in cui lei continuava a morire in continuazione Io diciamo mi arrabbiavo con lei perché non riuscivamo a registrare Peccato che è successo un piccolissimo inconveniente, cioè il fatto che lei non l'ha presa per niente bene Anzi, a un certo punto ragà non sono neanche riuscito a dirgli che era uno scherzo che lei ha preso Mi è bloccato su Instagram, su Whatsapp e anche su Telegram, non mi risponde più ed è uscita completamente dalla partita Allora, io appunto ragà non sono neanche riuscito a dirgli che questa cosa non era vera, che non mi stavo arrabbiando veramente Ma che era appunto soltanto uno scherzo Ed ieri sera ragà lei non ha più logato su Fortnite, ora siamo a metà mattinata e guardando un po' cosa ho visto No way guys, è in una partita in singolo con 39 persone rimanenti, questo vuol dire che tra pochissimo dovrebbe finirla Io ora ragazzi la invito nel gruppo sperando che appunto lei entri perché se non entra ragà veramente non vedete neanche questo video Quindi se lo state vedendo è perché sono riuscito a parlare con lei e a riuscire a chiarire Comunque adesso ragà continuiamo a invitarla ragà, la spammiamo veramente troppo ma troppo di video Fiché non entra in questa cavolo di lobby E niente ragazzi adesso ci vediamo se entrerà appunto in partita Speriamo ragà speriamo Gaia entra dai Gaia entra entra o no, entra o no Gaia dai dai sei il lobby Entra entra Gaia entra Oh Gaia Vuoi dimmi che vuoi ancora? Oh Gaia ma tu hai capito no che quello di rire era uno scherzo? L'hai visto il video sul mio canale? Gaia non era vino? Ma che scherzo Era uno scherzo Gaia Ma se non che mi credevi ma che scherzo dai Non è che non ti credevo ero fatta apposta è un bug Gaia è uno scherzo Ieri veramente non l'hai capito dai facevo una roba andiamo in partita che adesso ti spiego bene Ti dico subito che sto registrando un video Gaia Volevo tipo fare la pace con te ma io non ho capito perché ti sei arrabbiata così tanto Cioè io gli ho fatto uno scherzo Minchia non mi credevi Ma certo che non ti credevo ma sai perché? Perché era tutto nei piani per lo scherzo Non è normale che non ti dovevo credere Lo so bene che continuavo a morire non perché lo facevi tu Comunque dai adesso ragazzi andiamo subito in partita E Gaia ti spiego bene quello che è successo Finalmente ce l'abbiamo fatta Gaia è entrata tipo ti ho invitato 20 volte qualcosa del genere Quindi adesso ragazzi ci vedrete subito in partita Vi spiegherò brevemente quello che è successo E poi ovviamente cercheremo di fare la nostra vittoria reale Mi raccomando ragazzi se volete altri video con la mia ragazza Arriviamo a 7000 like In descrizione ci sarà il mio Instagram Che oppure l'Instagram di Gaia Quindi andate tutti a followarci Eccoci qua ragazzi finalmente ci siamo Siamo in partita Allora ragazzi andiamo a Borgobislacco Ti va bene oppure c'è troppa gente in partita Dimmi tu Ok dai Va bene dai andiamo a Borgobislacco Allora innanzitutto ti voglio chiedere una cosa importante Per quale cavolo di motivo mi hai bloccato Sia su Instagram sia su Whatsapp Sia su Telegram E non mi rispondevi da nessuna parte Perché? Oh perché sono stranze di merda E per quale motivo? Perché? Che buono mi credi mai Non è che non ti credo mai Intanto lì c'è un lama Semplicemente era uno scherzo E' normale che non ti devo credere Oppure no E' normale Vabbè comunque innanzitutto ragazzi Cerchiamo di fare una bella partita Poi comunque ti spiegherò bene Tutto quello che è successo Perché ti ho fatto lo scherzo Eccetera Allora innanzitutto è pieno di centramè Gaia C'è veramente un sacco di centramè Io non ho ancora un'arma Ok ho trovato adesso un pompa Tu come sei messa? Ho trovato un pompa anche io Ok perfetto perfetto Da me ce n'è uno sopra di me Tu comunque sta a tenere un attimo Per i cavoli tuoi Vedo se riesco a trovare qualcosa Ho tirato uno Oh brava Gaia Una kill fatta brava brava Allora intanto voglio sapere una cosa Ma sei ancora arrabbiata tu oppure no Ah Gaia mi sparano Gaia Gaia aiutami Gaia Allora ce n'è uno qui davanti a noi Daia daia Dov'è? Hai visto stare dentro? Ah Porca miseria qua dentro Ma raga non ci posso credere Non ho più materiali Era dentro la cupola Gaia Era sotto la cupola questo qua Allora comunque adesso ti spiego Prima iniziamo a killarli Adesso ti spiego tutto per bene Comunque l'unica cosa che ti dico È che non devi essere arrabbiata Perché era soltanto uno scherzo E tra l'altro Quando è finito lo scherzo Ci ho messo pure un botto Per spiegarti bene quello che è successo Perché tu non mi rispondevi Mi hanno ucciso Gaia Non ci posso credere Mi hanno killato Lo sta trovo a uccidere lo sta Mi devi assolutamente salvare Uuuu GG Gaia Bella kill Bella kill Vai vai Un altro Un altro Ma 72 Attenzione Uuuu Mamma mia Gaia Che cavolo ti sta succedendo? 3 kills per Gaia Se non posso solo per il fatto Che sei diciamo un pochino Come possiamo dire Un pochino ancora arrabbiata Ma perché sei ancora arrabbiata Gaia Me lo vuoi dire? Oh perché Perché Mi è piaciuto lo scherzo Cioè non mi l'aspettavo Ho capito Ma cosa vuol dire? Non ti aspettavi lo scherzo Allora mi fai Facciare questa storia qua Non so Lo scherzo innocuo Gaia Eh me lo prendo Io sono un po' Per per me la usa Dimmi 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 Prossima volta Finire il tuo padre A giocare Perché Magari è più forte No Gaia No Ragazzi è che son rabbia E così non va bene Dai Gaia Gaia Devi perdonarmi Gaia Comunque se trovi me Di kit band Dammele Va bene Va bene Va bene Comunque veramente Sei una cosa assurda tu Gaia Comunque c'è altre gente Guarda un cittadino Arriva a prenderti Adesso arriva Aspetta Ucciso Mamma mia Gaia Allora a parte che oggi Stai giocando stra bene Comunque Adesso ti spiego bene Cos'è successo esattamente Nello scherzo Grazie dagli scildini Allora praticamente Cos'è successo Le avevo in mente Di fare uno scherzo qualcuno Però non sapevo chi farlo Allora cosa ho pensato Visto che Gaia Non gli ho ancora fatto Nessuno scherzo Non gli ho fatto Nessun giochetto strano Non gli ho fatto Nessun video riguardo Contro di lei Ho pensato Perché non facevo Un bello scherzo Gaia Se non avete più video Sul mio canale con Gaia Sapete il motivo Ormai rimarrò arrabbiata Con me per sempre No dai sto scherzando Gaia Eh? Pochino si No Gaia Ma però sei stronzo Mamma mia Perché mi fai Ci scherzi Ancora Ancora Gaia Ancora questa storia Ancora Mi basta malissimo Ma lo so Ho visto cavolo Mi hai insultato Sei uscito da DS Sei uscito da Whatsapp Cioè mi hai bloccato su Whatsapp Su Telegram Non ti sei più fatta sentire Per cavolo Un giorno e mezzo Io pure volevo registrare Un altro video con te Cavolo Non ti sei neanche più Fatta sentire Zero Perché mi fa fastidio Quando le persone Mi fanno gli scherzi Perché Ho capito Ma che vuol dire Uno scherzo Poi il canale Gaia dai Non lo so Sono permoloso Te l'ho detto Ma neanche uno scherzo Ti posso fare Va bene Ti passerà Ti passerà Speriamo Ragazzi Non faremo più scherzi Gaia Abbiamo capito Basta scherzi Gaia Perché qua Finisce male Se non lo faccio un altro Comunque Direi Ragazzi vi lascio in descrizione Il link di Instagram di Gaia Andate tutti a consolarla Se no non mi parlerà Più non faremo più video insieme Bravo Secondo me sarebbe più carino Tuo padre Sarebbe più carino Ancora No ancora di insultarmi Gaia Adesso ti devo mutare Se continui di insultarmi Io sto registrando Gaia Sparano intanto Ci sparano Ci sparano Io ci ho sentito Sono là Sono est Vai 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 Cerchiamo di killare Sono un team Oh 105 Uno colpito Uno colpito Anzi Ah Mi hai detto bravo La prima parola bella Che dici oggi Su di me Sì Io sono carina Con te Tu no Ma cosa stai dicendo Io ti sento male Io ti ho fatto uno scherzo E basta Cosa stai dicendo Dai andiamo a pushare Gaia Per favore Andiamo a pushare Non diciamo sciocchezze Andiamo a pushare va Ok 260 Let's go Let's go Una kill l'ho fatta Cerco di salire Per cercare No no Mi sta facendo cadere Non ci posso credere Vai vai saliamo saliamo Ok A giocare No Dai 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 Gaia Ce la puoi fare E qua è bloccato Mamma mia Vai Gaia Attenta attenta Mi uccide a me Mi uccide a me Mi uccide a me Oh bravo Che mi hai lanciato No Gaia Troppo forte No Gaia Ce l'hai fatta Ok veloce che mi cacchino Veloce 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 Corri da me Sono qua sotto Corri corri Gaia Mi hai lasciato da solo Ho capito È il karma No ragazzi Cioè mi ha pure fatto morire Dai Gaia Mi ha pure fatto morire Ma siamo seri Comunque sei veramente uno stronzo Perché ancora? Dopo questo dovrei farti perdonare In qualche modo Gaia basta Gaia basta Ancora queste storie Va bene Ho capito Basta Lo giochiamo e basta Giochiamo e basta Guarda quanto Brava brava Almeno sei stata brava Mi hai lasciato morire Però almeno mi hai restato Va bene Ho detto io sono carina Sono un po' colosa Eh anch'io Anche io toto Ho fatto uno scherzo Lascia stare Quello che ho detto Lascia stare Ok Gaia Qua davanti a noi c'è qualcuno Perfetto Cerchiamo Eccoli Eccoli da C'è chilata Perfetto L'ho mancato Ma comunque Gaia Sei ancora triste Cioè sei ancora triste Ancora Dopo tutta questa partita Pochino sì Dai Non come prima Più meno Ok cento colpito Ok Che bello sto bruciando Let's go Uno ucciso Uno ucciso Uno ucciso No non ho più materiali Porca miseria 8 8 Ok Cosa ho trovato Gaia Cosa ho trovato Mamma mia Questo qua aveva il pompa Quello fortissimo Ho trovato un pompa Veramente troppo forte Obbligatorio la vittoria Sopra di me Mi servono raggi Hai raggi Non ho più raggi Ok dai Dove esattamente Ah ma è qua Ma porca miseria Non ci posso credere Ho detto dove esattamente Ce l'avevo davanti Dai dai Tanto Tanto Let's go Morto Morto Con calma Ce la possiamo fare Vincere Qui c'è pure un bel pompa Per te Prenditelo Ok Brava 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 C'è altra gente Ah no Sì sì C'è altra gente Mi hanno appena sparato Madonna Questo ma Praticamente Arrivo 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 Ok Ok colpito Colpito Ok Ho tornato Da me Da me c'è un altro Da me c'è un altro Ok l'ho ucciso Ha un botto di roba Se vuoi Guarda a me Oh Vittoria Vittoria reale Ce l'abbiamo fatta Ok dopo questo Mi hai perdonato Dai Gaia Mi hai perdonato Facciamo così Se il video arriva a 10.000 like Mi perdoni Ok Anzi no Se io arrivo su Instagram 4.300 Va bene 4.300 Ragazzi Tutti seguirli su Instagram Almeno mi perdono Ragazzi Per favore seguitela Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se è così Cerchiamo di superare 10.000 like Mi raccomando Altra cosa importantissima Andate tutti a seguire Gaia Da link di Instagram Sono in descrizione E almeno così Mi perdono Ragazzi Speriamo Ovviamente Corice creatore HZN E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 Cosco Grazie.